Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. La risposta sì, l'anno scorso c'era un vento sfavorevole a tutti i livelli che ha inciso sul risultato, ora il vento è cambiato. Ci perdoni Annunziata, può spiegarsi meglio? Se ora tira un vento favorevole, perché lei per prima vuole andare contro vento? Grazie a tutti.